E voilà ragazzi, questo è il rotolo di carta igienica Ed è famoso per essere uno degli oggetti più preziosi che siano mai stati realizzati Sembra uno strumento complesso ma in realtà non lo è Infatti si tratta semplicemente di un cilindro di cartone attorno al quale è stata avvolta della carta morbida e delicata Un po' come se fosse stato mummificato Infatti il rotolo di carta igienica potrebbe essere definito a tutti gli effetti la mummia di un pezzo di cartone Ma adesso vi faccio vedere come funziona Arex! Ah, oh, oh, ehi, vai, 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 bastatore Che stai facendo? Sto facendo la recensione del rotolo di carta igienica La recensione del rotolo di carta igienica? Eh sì Ma fammi il piacere con tutte le cose che abbiamo da fare Ti metti a fare la recensione di un rotolo di carta igienica Eh, interessante Ma stai zitto, andiamo No, aspetta, stiamo dimenticando il rotolo Abbiamo cose ben più serie a cui pensare Ma il rotolo di carta igienica è una cosa seria